La seta, un materiale tanto prezioso quanto apparentemente difficile da lavorare. Conosci la sua storia? Sai come cucirla? Stai cercando i cartamodelli perfetti da cucire con questo materiale? Non sapevi che è una fibra che ti fa stare al fresco quando è caldo e ti fa stare caldo quando è fresco? Se hai voglia di scoprire con me come cucire la seta e scoprire tutti i segreti che voglio svelarti all'interno di questo video tutorial, sei approdato nel video tutorial giusto? Bentornate cuciamiche e cuciamici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito e benvenuto a te, sei la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso oltre a darti il benvenuto ti ricordo che potresti sbirciare i miei canali social, la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram e il mio canale YouTube, infatti si chiamano tutti Sara Poiese e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore dedicato ai tutorial di cucito o sartoriale, creativo, tutorial dedicati agli strumenti per il cucito, agli sfogli delle riviste e allo shop. E se ancora non ti bastano tutte queste scorpacciate di tutorial dedicati al mondo del cucito, trovi anche sarapoieseacademy.com, la piattaforma per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi in diretta dalla mia craft room, tutti registrati che pertanto potrai vedere comodamente da casa tua, ovunque tu voglia, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente a casa tua in totale sicurezza. Ci sono tante categorie di corsi diversi che ogni mese vengono sempre implementati. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo video di oggi che fa parte di una capsule collection, chiamiamola così, di video che continuo a pubblicare periodicamente dedicati a questa sorta di guida ai tessuti. Oggi tocca al materiale seta, un materiale particolarmente, per così dire, delicato, ma neanche eccessivamente delicato. E scopriremo perché. Anzitutto puoi trovare qui sotto in info box, vuol dire nella descrizione del video, tutti i video tutorial correlati di guida ai tessuti. Per esempio ho fatto un video tutorial dove ti ho insegnato i miei segreti per lavorare in cupro, un altro tutorial dove ho parlato della mussola di cotone, un altro ancora dove ho parlato dell'eco pelliccia, un altro dove ho parlato di jersey. Se vuoi approfondire tutti questi contenuti e stai visualizzando questo video da smartphone, ti basterà cliccare sul titolo del video, ti comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato ai video tutorial correlati. Se invece stai visualizzando questo video da computer fisso, computer portatile, dunque notebook, il video dal mio canale YouTube ti comparirà con il titolo e sotto la parolina mostra altro. Clicca su mostra altro e ti comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato ai video tutorial correlati. Tra l'altro mi preme soffermarmi qualche secondo su questo info box perché è molto utile e spesso lo sottovalutate. Nel mio info box infatti nei video recenti, quantomeno di almeno un anno e mezzo fa dalla data di pubblicazione di questo video, contengono tutti la divisione in capitoli. Pertanto se vuoi arrivare ad un capitolo particolare del programma che tratto nei miei video e solitamente all'inizio di ogni video tratto sempre il momento dedicato al programma, l'utilizzo dell'info box è molto importante per andare a arrivare direttamente al minutaggio che desideri tu. Infatti questa è una grafica che vedi spessissimo, quella proprio dedicata al programma del giorno. In questo video tutorial di oggi scopriremo che cos'è il tessuto seta e la sua storia perché è veramente molto importante capire dove tutto è cominciato e come questo materiale possa far parte del nostro quotidiano. Vedremo poi gli strumenti per lavorare la seta. Ci sono alcuni accorgimenti che ti migliorano sicuramente la vita nelle lavorazioni di cucito sartoriale. Scopriremo poi quali sono i miei consigli personali dedicati ai piedini alla macchina per cucire per poter lavorare serenamente questo materiale e vedremo poi una selezione di cartamodelli che ho pensato per te dedicati proprio alla lavorazione della seta. Quindi un materiale decisamente molto molto prezioso. Entriamo proprio nel vivo perché vorrei vedere con te proprio come a tutti gli effetti che cosa sia il tessuto seta. Scopriamo assieme cos'è il tessuto seta. Qui anzi qui vi ho già mostrato i cartamodelli chiedo bene. Eccolo qui il tessuto seta. Il bello della diretta no? Anche perché è bello in questo 2022 data della registrazione di questo video poter condividere i nostri contenuti, le nostre passioni anche in questa formula un po' più smart, un po' più easy way. Fatemi sapere se vi piace anche questo approccio. Sto cercando sempre di migliorare il mio rapporto digitale con voi proprio anche in virtù di quello che fa piacere a voi. Allora procediamo. Andiamo a studiare assieme il momento didattico che cosa sia la seta. La seta, qui ve l'ho scritto, sembra avere origini veramente antichissime. Partiamo in Oriente, partiamo in Cina, partiamo con un filato veramente con una grandissima storicità. E come per la lana che è una fibra tessile di origine animale, anche la seta proviene da un animaletto che si chiama il baco da seta. Fondamentalmente questo baco che poi magicamente viene farfalla, in realtà scherze a parte, volevo farvi sorridere, è comunque un materiale simbolo da sempre di nobiltà e di ricchezza. Poter, pensa, indossare una camicia di pura seta rappresenta comunque uno status sociale. Infatti all'epoca era un privilegio concesso solo agli imperatori, ai sacerdoti e a pochi altri fortunati. Da qui infatti si evince che i colori predominanti erano il giallo, il viola e il celeste. Il giallo era un colore dedicato all'imperatore e all'imperatrice in Oriente, mentre il viola era quel colore dedicato alle donne dell'imperatore. Il celeste era il colore dedicato agli ufficiali di corte. Avrai sentito parlare della via della seta. Bene, la via della seta è fondamentalmente il percorso che dall'estremo Oriente portava i carichi di seta fino all'Occidente. Ciò significa che questo famoso percorso oramai molto noto denominato via della seta è inizialmente partito, è stato concepito come una tratta propedeutica allo scambio della merce dall'Oriente all'Occidente. Poi in realtà è divenuto anche un percorso culturale, meta di grandi viaggi e fa parte tra l'altro di uno dei miei sogni nel cassetto, quando si potrà tornare a viaggiare con una certa, diciamo, apertura, mettiamola così, e viene proprio denominata la via della seta questo percorso commerciale, ma anche proprio culturale che lega il mondo occidentale a quello orientale. La via della seta poi nasce fondamentalmente, o meglio, la seta in sé nasce dal bacco. Il bacco da seta inizia a lavorare ciò che poi diviene la seta grezza, la fibra grezza, che a tutti gli effetti non è omogenea, non è lucida, non è brillante, non è drappeggiabile, non è niente di tutto ciò, dobbiamo prima passare al trattamento tessile per ottenere poi questo prodotto assolutamente lucente, assolutamente brillante, che è un tessuto che assorbe facilmente le tinture. Infatti è molto in voga andare a tingere la seta per creare delle nuance, delle colorazioni decisamente variegate. Il tessuto ha comunque una trama molto elastica, soprattutto se lo si lavora in sbieco. Pensiamo a tutti i moulage, a tutti i drappeggi, a tutti gli abiti dedicati all'haute couture, con tutte quelle pieghe, quelle arricciature, quelle manipolazioni. Orbene, tutti quei materiali, tutti quegli abiti, quegli outfit, sono creati con la seta molto spesso tagliata in sbieco. È un tessuto pertanto a trama molto elastica, una trama molto resistente, ma è anche morbida, scivolosa ed è ideale per il drappeggio. La seta, che è morbida e leggera, è piacevolissima da indossare, contrariamente a quanto si pensa, isola molto bene dal caldo e dal freddo. Ciò significa che la seta è perfetta in estate ed è perfetta in inverno. Io adoro vestire le camicie di seta, soprattutto quelle che cucio io, perché ovviamente hanno anche un rapporto low cost diverso della camicia di seta che ha questo negozio, perché è perfettamente un termoregolatore a tutti gli effetti. Grazie alle sue molteplici qualità, come ti ho notato, è molto apprezzata nella produzione di lingerie di alta moda e anche nella realizzazione di carte da parati e di tappeti. Quali tessuti possiamo ottenere dal materiale originale che è la seta? Possiamo ottenere il taftà, cangiante dedicato agli abiti da cerimonia, le damigelle, le mamme delle spose. Possiamo ottenere la georgette di seta, quelle gonne di seta e georgette leggere che hanno 10-20 strati di seta e sono meravigliosamente fluttuanti. Otteniamo lo chiffon, una variante più trasparente della georgette. Ti faccio un esempio, lo chiffon è quello trasparente che si è messo monostrato e si vede tutto. La georgette è altrettanto leggera, ma è più coprente, ha una mano più coprente. Troviamo poi l'organza. L'organza è quell'effetto seta estremamente lucida ed estremamente rigida. Hai presente quelle stole che si usano nelle cerimonie, se ancora partecipi a qualche cerimonia in presenza, che sono particolarmente luminose, cangianti e rigide. Cioè, poi cerca di capire il concetto di seta più rigido. Non vuol dire che è un pezzo di mattone, non vuol dire che è un pezzo di jeans, vuol dire che è molto sostenuta, che tiene bene la forma. Bene, quella è l'organza, non è seta pura fino a se stessa, è organza, il prodotto un po' più rigido, un po' più voluminoso. Quello, per esempio, è organza che si trova anche nei fiorellini delle bomboniere, che sembrano fatte di tessuto di seta, ma in realtà hanno questa bella struttura, questo bel corpo tale da essere realizzati in organza. Troviamo poi il raso, tessuto piuttosto noto. Il damasco, in realtà chiamato come tessuto damascato, cioè tutti quei tessuti come il damascato, il broccato, che sono lavorati soprattutto per i capi spalla, per esempio, per i cappotti, per gli abiti, per i bustini, per le confezioni haute couture, che hanno questa fibra estremamente luminosa. Pertanto dalla seta non si ottiene solo il tessuto leggerissimo, come la camicina di seta, ma si ottiene anche un broccato, un damascato, un jacquard anche di seta, atto a cucire cappotti e capi spalla. Si ottiene poi il crepe di seta, che ha questa mano quasi granulosa, tipo effetto crepe. Si ottiene poi lo shantung, un tessuto molto fermo, molto rigido, sembra quasi carta a tratti, ed è quel tessuto caratterizzato da quelle righine orizzontali monocolore che ogni tanto hanno il nodino, tipico della fibra che si annoda tra una lavorazione di trama e l'altra. Antiquesto shantung, un tessuto particolarmente dedicato alla cerimonia. Si trova poi il crepe de chine, un tessuto decisamente leggero per confezionare abiti, camicine o comunque pantaloni palazzo, dalla linea estremamente leggera. Come lavare la seta? La posso lavare in lavatrice perché le moderne lavatrici hanno il programma seta, non devo superare i 40 gradi, devo lavarla comunque a temperature e a centrifughe estremamente delicate e se possibile devo cercare di asciugarla e comunque riporla poi in armadi o in cabine armadio possibilmente al miglio e in condizioni di scarsa umidità. La seta infatti teme la luce del sole poiché scolora, la seta teme l'umidità poiché crea delle macchie bianche che rovinano fondamentalmente la seta perché il tessuto tende facilmente a sbiadire o a ingiallire facilmente. Attenzione che anche nella seta ci possono essere le tarne perché potresti trovarti magari il broccato come tessuto di seta e questo broccato avere al suo interno sia una percentuale di seta e una percentuale di lana, or dunque la tarna colpirà anche il tuo bel progetto in seta. Attenzione perché appunto è sensibile all'umidità e cerchiamo di avere cura fondamentalmente di questo prodotto. Abbiamo visto appunto il tessuto seta. Andiamo a vedere adesso gli strumenti per poter lavorare la seta. Qui vi ho posto alcuni materiali, anzitutto una forbice piccolina. Per lavorare la seta abbiamo bisogno di forbici piccole e appuntite. Abbiamo bisogno di rotary cutter piccolini come il rotary cutter da 18 mm o il rotary cutter da 28 mm. Il tessuto infatti è sottilissimo, è estremamente fluido, lucente, morbido e non ha bisogno del classico rotary cutter da 45 mm. Ho poi bisogno di spilli perfetti per i materiali leggeri come gli spilli lunghi da patchwork molto sottili. I più sottili che trovo in commercio sono la scelta ideale perché la seta richiede comunque questa lavorazione decisamente delicata. E poi tra i materiali che mi permetto di consigliarti tra la strumentazione ci sono anche i piedini. Attenzione al primo piedino che vediamo che è il piedino patchwork 6 mm coprente seguito poi da tutta la linea dei piedini trasparenti. Il piedino patchwork trasparente classico, poi c'è il piedino patchwork con la guida laterale e il piedino patchwork con la guida centrale. Perché ti consiglio questi piedini? Perché sono piedini a pianta dritta, cioè puoi cucire solo il punto dritto. Infatti con la seta molto spesso si lavora solo ed esclusivamente il punto dritto. Oralmente si lavora lo zigzag. Ci sono però delle necessità, delle occasioni nelle quali abbiamo bisogno di lavorare un punto zigzag. In tal caso ci viene in aiuto il piedino a bordo stretto lamella centrale, a fianco al piedino di teflon e il piedino orlatore. Il piedino lamella centrale è una soluzione geniale per andare a fare tutte le ribattiture, dei colletti, delle liste a bottonature, dei polsini, di tutti i progetti legati ad un'impuntura nel mio progetto di seta. Il piedino di teflon è una soluzione che io trovo molto pratica perché è uno dei pochi piedini a pianta larga che mi garantiscono una buona scorrevolezza nella seta e che mi garantiscono anche una buona visibilità immediata del tessuto sul piedino perché non sono quei piedini a pianta larga molto coprenti, classici per esempio, dei tipici piedini normali che possiamo avere nella nostra macchina per cucire. Il classicissimo piedino sia pianta larga proprio a tutti gli effetti il normalissimo noto piedino a pianta larga. Tra l'altro un piedino che mi piace soprattutto utilizzare oltre a questi accessori è il piedino orlatore. Il piedino orlatore l'ultimo che vediamo nella guida è la soluzione se a casa tu non avessi magari la tagliacuci. Infatti come abbiamo visto qui la soluzione è poter lavorare con una bella macchina per cucire e la soluzione di poter lavorare con la macchina per cucire mi permette di utilizzare anche la placca ago punto dritto. La placca ago punto dritto infatti mi permette in realtà di poter sostituire la placca classica dello zigzag con il punto dritto. Per lavorare la seta è la scelta ideale poiché il filo e l'ago si infosseranno solo ed esclusivamente nel forellino fondamentalmente dedicato alla placca ago. Ci sono placche ago più piccole, ci sono poi placche ago invece più grandi a seconda che magari tu abbia a che fare con eccola qua una macchina più piccolina o una macchina più grande e ogni placca ago ripone sempre la misura sia in pollici sia in centimetri utilizzabile appunto come sistema di riferimento. Un altro elemento molto comodo nella placca ago è l'utilizzo di un eventuale pezzetto di scotch carta che mi aiuta molto nella lavorazione del sistema di misurazione. Ovviamente è molto comodo utilizzare la macchina per cucire per cucire la seta sia che tu abbia una meccanica sia che tu abbia un'elettronica. Mi permetto però di suggerirti la macchina elettronica poiché potrai spostare l'ago a destra a sinistra della misura che tu desideri e questo è di grande aiuto proprio quando si vuole andare a cucire da veri professionisti. Per cucire la seta ahimè il tessuto sfila quindi o hai a disposizione il noto piedino orlatore di cui abbiamo parlato prima che ti costringe però a orlare ogni parte delle tue cuciture con tanta pazienza e perseveranza oppure ti attrezzi con la taglia cucci. Se ti attrezzi con la taglia cucci scegli in questo caso un ago microtex e soprattutto noti una grande differenza tra il filato inserito in taglia cucci e il filato che ho lasciato a lato. Infatti il filato che ho lasciato a lato ricorda il colore dorato di cui ti ho raccontato prima. Esatto il filato lucido quindi il filato da ricamo è la scelta ideale per andare a creare dei fantastici orli con la taglia cucci per la realizzazione di fular stole orli di gonne. è anche vero che io vado a sorfilare a tre fili un ago ago di destra la cucitura al margine di cucitura standard sui progetti in seta sempre con il filato da ricamo perché perché è un filato disponibile in una gamma cromatica molto più vasta del classico filato da taglia cucci. Questo infatti mi permetterà di avvicinarmi il più possibile alla scelta cromatica del tessuto che sto lavorando. Se a casa non hai la taglia cucci quantomeno scegli il piedino orlatore vicino al piedino di teflon. Possono essere comunque una valida soluzione che ti permettono di lavorare serenamente con questa tipologia di materiale. Torniamo adesso nel nostro programma. Abbiamo visto gli strumenti per lavorare la seta, abbiamo visto anche come cucire la seta. Una precisazione su come cucire la seta. È assolutamente importante avere un piedino a punto dritto, una placca ago punto dritto e l'ago microtex. L'ago microtex infatti ti garantisce un'eccellente cucitura nel tessuto seta. Ricordati poi che se hai a disposizione magari una macchina con il doppio trasporto integrato come nel caso di Expression 720 ti basterà semplicemente disinnestare o innestare in questo caso attivalo il doppio trasporto per avere un'eccellente tenuta della tua cucitura. Andiamo adesso a vedere i cartamodelli che possiamo cucire con la seta. Ho selezionato per te dei cartamodelli che ho scelto da sowdirect.com, il distributore per l'Europa del brand Simplicity, McCall's, Vogue, Butterick. Questo brand ti mette a disposizione tanti pattern diversi. Io te ne ho selezionati alcuni come il New Look N6652 perché è importante realizzare un abito in seta quando non lo vogliamo rendere aderente. Quindi magari un taglio princess verticale può essere un'ottima scelta. Tra l'altro trovi la taglia e anche la valuta qui in alto la sposti da moneta britannica a euro, vedi il prezzo e vedi anche la taglia qui sopra che puoi appunto scegliere quale taglia inserire. Puoi scegliere poi se avere il pattern standard, alcuni sono anche disponibili nel pattern in PDF. In questo caso ci sono per esempio 115 pattern in stock attualmente. Se non sai qual è la tua misura, qui hai la size chart, quindi la tabella per prendere le misure. Un altro pattern che mi piace è il Simplicity 8421 perché è una gonna molto semplice che posso realizzare anche se sono principiante con l'elastico e in seta sarà spettacolare. La posso realizzare anche in seta doppiata lunga, la posso realizzare a simmetrica, la posso realizzare magari a 7 ottavi o decisamente lunga e sempre a 7 ottavi. Tra gli altri pattern mi piacciono molto il Very Easy Vogue V9315 poiché è un pattern di una stola perfetta per andare ad una cerimonia oppure perfetta come outfit anche primaverile in quanto la scolla incrociato garantisce alla seta una perfetta vestibilità e l'arricciatura sulle maniche la fa proprio da padrone. Abbiamo poi una blusa semplicissima, il Vogue V9258. È adatto questo pattern perché il modello è molto morbido, la linea è molto fluida e la svasatura del progetto danno femminilità alla silhouette della tua fisicità. Un altro progetto che ho realizzato anche negli anni passati, c'è un mio vecchio video tutorial sul mio canale YouTube, è il Vogue V9151. Questa blusa semplicissima è perfetta in realtà per tutte le taglie. E vedi, qui puoi scegliere tra le opzioni, c'è un'opzione che in realtà è la taglia piccolina che, eccola qui, te l'ho selezionata adesso, per cui la SM o la ML e poi puoi anche scegliere tra la Large, la XL e la XXL. Ovviamente anche qui puoi sempre scegliere la Size Chart per individuare quella che sia la tua taglia. Tra gli altri pattern che mi piacciono e che ho anche realizzato in passato c'è il Vogue V9029 perché è la camicia Masterpiece, secondo me, da utilizzare in tutti i progetti. Perfetta è in questo caso la camicia di seta semplice come la variante C o un po' più romantica come la variante A nei polsini lavorati o ancora, perché no, estremamente frou-frou con questo volant nella variante D. C'è poi un altro progetto che è molto semplice da realizzare che è il Vogue V9006. Questa blusa in realtà richiama il concetto di tagliare un progetto in sbieco. Infatti, come vedrai anche dal tessuto a quadri della variante B, questo progetto è tagliato completamente in sbieco e rende questo drappeggio sul girocollo veramente molto romantico. Questi progetti si possono realizzare con la seta. Se invece si è alla ricerca di un abito, il Vogue V9343 potrebbe fare al caso tuo, sia come abito ma anche come gonna, perché potresti pur sempre spezzare il pattern, tenere solo la gonna o tenere magari il corpetto abbinato ad una gonna a tubo molto aderente. Potrebbe anche essere una variante molto interessante. C'è poi il Vogue V9328 che è un modello molto semplice di abito, molto lungo, che si presta particolarmente a tutte le fisicità e a tutte le taglie e che è contraddistinto da un taglio princess nel corpetto e fondamentalmente da una gonna a sei teli. Tra l'altro, nella mia piattaforma Sarapoiese Academy dedicata ai corsi, ti ho proprio insegnato a cucire un abito taglio princess con fodera e con gonna a teli. In realtà lo trovi esattamente in corsi, in questa sezione, e lo trovi tra i corsi disponibili ed è la confezione abito tubino corso intermedio, che tra l'altro è in sconto nel mese di gennaio. Tra gli altri pattern che mi piacciono c'è l'ultimo che ho selezionato per te, che è una versione un attimo più invernale, che è il Vogue V9327. Questo pattern mi piace particolarmente perché dal mio punto di vista si presta a molte fisicità e soprattutto ad una sobrietà senza tempo. Queste pants verticali dal giro collo al seno sono veramente incomiabili, la gonna è molto svasata, consumerai tanta stoffa, ma otterrai veramente un progetto di sicuro successo, con queste maniche a ventaglio che sono poi veramente fantastiche. Bene, cuciamiche e cuciamici, io vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me il vostro prezioso tempo e avermi dato fiducia in questo nuovo video tutorial. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice innalzato, così magari pubblicherò qualche altro video sull'argomento e continuerò ovviamente ad essere costante nel mio canale YouTube con tutte le mie pubblicazioni. Mi farà davvero molto piacere rivedervi qui sul canale, per tanto vi mando un calorosissimo abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.